ciao a tutti oggi vi presentiamo queste microlime sono particolari perché sono curve ognuna con una forma diversa vengono utilizzate per materiali duri in particolare metalli ma anche resine plastiche da entrambe le parti hanno una forma diversa questa è piatta ma vediamo che ci sono anche altre forme la sezione triangolare la sezione tonda vengono usate in particolare per piccoli lavori di modellismo di finitura in oreficeria per bigiotteria sono molto comode perché avendo la doppia finale possono essere utilizzate in varie situazioni il set è composto da 12 pezzi e lo trovate sul nostro sito elettronica didattica punto com con il codice m0323 vi aspettiamo sul nostro sito per molti altri articoli per modellismo e hobby creativi e vi aspettiamo per i prossimi video su questo canale iscrivetevi se ancora non l'avete fatto elettronica didattica ciao a tutti a presto